Oggi ci si sposa sempre di meno, qual è il motivo di questo calo dei matrimoni a suo avviso? Penso che l'istituzione del matrimonio sia un po' in crisi, sia da un punto di vista ecclesiastico, perché la gente frequenta molto di meno le chiese e le parrocchie, e anche perché ci sono oggettive difficoltà economiche, e quindi così la precarietà si ripercuote anche nei rapporti. Io mi sposo tra un mese in realtà, quindi è convivo. Ti sposi in chiesa? Sì. Perché hai scelto il matrimonio in chiesa? La domanda del corso questa, perché ho sempre voluto io il matrimonio, per cui è anche comunque in chiesa, di conseguenza là lo facciamo. Ma in generale perché oggi c'è questo allontanamento da quello che è il matrimonio tradizionale? Parli con una che proprio, boh, tante volte si ha paura, si dice la convivenza per... Intanto proviamo. C'è il matrimonio, ma forse non più in chiesa, ma in comune. È vero anche, c'è anche molta convivenza. Non saprei, sicuramente potrei mettere come un problema di allontanamento dalla chiesa, nel senso. Tu sei per il matrimonio o per la convivenza? Io non sono per il matrimonio in chiesa, quindi... Ok? E' indifferente, nel senso, se un giorno mi sposterò, penso che mi sposterò in comune. Da vedere, non è la mia priorità. Ma guarda, io ho 37 anni, sono singolo e ho 37 anni, non saprei francamente rispondere. Perché la gente non ha più voglia di prendersi responsabilità, secondo me. Quindi si preferisce convivere senza ufficializzare. Esatto, perché nel caso la cosa andasse male, c'è meno burocrazia dietro, penso. Ma voi preferite il matrimonio in comune o il matrimonio in chiesa tradizionale, se fosse? Entrambi. Sì, sì, sia comune che chiesa. No, anche io sono d'accordo con questa affermazione. Più che altro, penso che anche il matrimonio in chiesa venga fatto meno, anche perché ultimamente il credo sta diminuendo e quindi anche le chiese sono sempre più vuote e di conseguenza sta anche perdendo il suo ruolo. Di conseguenza o si va in comune, oppure semplicemente la convivenza che ha meno vincoli. Grazie. Grazie.